Start, 2, 1, history mission and liftoff! Che cos'è? È una fabbrica di birra che noi andiamo a gestire. Ci ritroviamo appunto con l'avvio della nostra attività nel nostro pazino, nel nostro territorio e siamo ancora nel tutorial ma l'ho già un pochino iniziato. Vi faccio vedere. Vedete che intanto qua c'è dell'altro di là ma intanto entriamo. Vi faccio vedere. Ok, questa è la nostra fabbrica. La nostra fabbrica ci permette appunto di risalire di reputazione nel caso in cui noi buttassimo via i sacchi. Quindi vedete come succedeva anche in quell'altro gioco del parcheggio. Non abbiamo quest'auto ancora funzionante, bensì abbiamo un muletto e un transpalette. Poi io sono già in una fase diciamo dove ho giocato una mezz'oretta, ho già sbloccato alcune cose, infatti ho già un po' di cose. Allora, vi faccio vedere intanto l'interno perché qua abbiamo l'entrata che abbiamo un pochino ripulito la prima volta che ho iniziato e poi abbiamo il computer dove ci ha fatto acquistare la scopa, il primo banco degli attrezzi e il muletto, il carello a forche. Abbiamo la possibilità di farci consegnare degli oggetti, del malto grezzo per cui dobbiamo lavorare. Io adesso me ne faccio consegnare una ventina in modo che adesso arriva e vi faccio vedere. Intanto qua abbiamo anche contratti, è quello che ho attivo adesso, che sono le missioni, gli investitori ci consentono di chiedere diciamo dei prestiti. Il carello ci permette di andare a potenziare la potenza del nostro muletto, mentre i dipendenti, il bierificio, la personalizzazione e il mercato globale non li abbiamo ancora sbloccati. Di qua abbiamo una sorta di spogliatorio dove potranno stare i dipendenti e qua abbiamo, usando sempre la nostra chiave, la possibilità di vedere il magazzino. Il magazzino tra l'altro è molto carino perché mi ha fatto acquistare questo scaffale, ho dovuto montarlo io avvitando i perni dei pilastri e qua dietro abbiamo anche, perché dalmeno mi ha permesso di farlo, di espandere ulteriormente non da qui ma da qui, vedete qui prima era chiuso poi probabilmente anche andando da questa parte ci saranno altre cose espandibili. Altra cosa che mi ha fatto fare il tutorial è stata quella di andare a comprare questo attrezzo che raffina il malto. Quindi qua abbiamo il malto già schiacciato, ho messo il pallet qui, il bancale qui perché una volta che viene buttato fuori finisce direttamente sopra, mentre qua dobbiamo buttare di dentro. Credo che mettendo il bancale qui si possa automatizzare perché è un gioco che si baserà anche sull'automazione. Lì dietro vedete che è possibile espandere ancora. Ma noi andiamo avanti col tutorial perché devo andare a scaricare il bancaletto. Ora lo facciamo con il trans pallet, anche se in realtà l'ho trovato abbastanza scomodo da guidare perché si guida al contrario. E quindi dobbiamo, allora prima di tutto, andare. Spingo avanti e giro di là, piano piano. Più che altro non ha gran sensibilità. Intanto mi metto qui ed esco dal controllo di questo affare qui, in modo che posso con la Q alzare, anzi aspettate che è la porta, tiro su. Ah, non me lo lascio fare perché devo andare più avanti con questo affare qui. Ah no, quello non lo sollevo. No, vorrei uscire da questo e alzare. Ok, solleviamo. E andiamo a guidare il veicolo e andiamo a tirare fuori il nostro pallet. Lo sollevo. La prima cosa che ho fatto è buttarmi giù. Ci ho messo una vita e mi si è anche buggato il trans pallet. Quindi cercheremo di fare le cose fatte bene. Perfetto. Adesso io esco e abbasso il pianale, in modo che possiamo venire qui e prenderlo col molletto. Adesso guida il veicolo, lo portiamo qui, lo portiamo magari più avanti. Ok, intanto il camion ha fatto quello che doveva fare e se ne va. Ora lo molliamo e lo carichiamo. Allora, e scarico, mi allontano, con la C esco dal mio mezzo e salgo su un altro mezzo. Guido il veicolo, qua è molto bello perché si può accendere. Ho dovuto montare anche le forche, si accende il motore. C'è il claxon che non va. Commuta la telecamera per vederlo davanti. Vedete che ci sono le forche indicate con i pallini rossi che diventano verdi nel momento in cui sono agganciate. E' sotto un bancale. Ora, vedete che non sono proprio una cima ad agganciarlo. Eh no, devo andare con calma, con molta calma. Devo capire. Vedete che va avanti piano, quindi dovrei far così. Vedete che diventa tutto verde, ok. Ora, posso bloccare il pallet, vedete che viene bloccato. Ora posso alzare le forche in modo da essere un pochino più agevole e vado a portarlo dentro. Questa diventerà la fabbrica di birra, ma al momento è tutt'alta. Allora, intanto io vedo se riesco a scaricare il pallet qua. Devo caricare 29. Ora, vediamo se funziona. Se io scarico qui. Rompelo avanti. Abbasso le forche. Nooo. Stop. Abbasso le forche. E vado indietro. Ma mollalo lì, cazzarola. Ok. E adesso, forse mi sono sbloccato, forse no. Vabbè, provo a lasciarlo qui. E chi se ne frega. Sprengo il motore, scendo, vediamo se me lo prende lo stesso. Cosa molto carina, ci sono gli indicatori qua della macchina, perché è la macchina che funziona. Attivandolo. E in questo caso, noi possiamo accenderlo e raffinare. Cosa che non funziona, perché dobbiamo andare a prendere questi e buttarli sopra. Quindi, con la G lo lascio cadere. Bisogna fare attenzione ad appoggiarlo bene, perché se poi entra storto, c'è il rischio che si incastri come dovrebbe essere realmente. Quindi, in pratica, io afferro e butto lì. F è mollo con G. F è mollo con G. F è mollo con G. E ne mettiamo ancora qualcuno. E andando qui, poi vado a... Vedete che mi dice fill, devo riempire. Quindi vado... Intanto viene attivato e... Il pallet scende. Vedete che continua ad arrivare adesso. Credo. Sì, sta arrivando. Dobbiamo consegnare un'altra 29. Quindi dovrò andare in qualche modo a sganciarlo dal... Sganciare il molletto dall'altro pallet. Agganciare questo e caricarlo sul pick up. Ok, quindi quanti ne ho? 6, 3, 3, 6, 12, 12 più 4, 16. Me ne mancano 13 ancora. Quando, ovviamente, è tutto vuoto, la macchina lampeggierà la lucina del fill. Questa rossa, come sta facendo adesso. Quindi andiamo avanti e ricominciamo il lavoro che stavamo facendo prima, mollando i sacchi. Non so esattamente se il macchinario funzioni così, nel senso che si apre i sacchi da solo e mette il malto grezzo e lo va a schiacciare e lo insacchetta da solo. Può essere, eh. Se c'è qualche esperto tra di voi della materia, magari me lo faccia sapere. Io sono ignorante. Vedete che qua si stanno incastrando. Bisogna risettare la rotazione in modo da riappoggiarlo bene. Intanto qua stanno salendo. Ci mettono un po'. È possibile velocizzare? No, 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 rimandare indietro i pallet, no. Velocizzare. O ripulire il tunnel. Va bene, intanto ci mettiamo qua. Adesso non mi dice quanti sono, però sono, ho detto, 3, 6, 9, 12. 12, 14, 14 più 13, 17. Ne mancano 12. Quindi continuiamo. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. È già finito, cazzo, da bubolo. Allora sono... Uh, aspetta che lo metto qua. Lascio cadere. Allora, 4, 4, 8. 8, 4, 4, 4, 4, 4. Quindi, 8, 16, 16, 20, 24, 25. No, ma non è finito comunque. Ne arrivano ancora? Non me li... Non me li imbancala. Perché? Perché sono troppi. Eh, probabilmente sì. Sono troppi. Eh sì, infatti, infatti è pieno. Vabbè, vediamo intanto se riesco a portarli... Adesso è vuota, perché lampeggio veramente vuoto. Quindi probabilmente me ne genera ancora qualcuno e basta. Non so se questo sia effettivamente un bug. Comunque, vabbè, adesso vediamo se riesco a sganciarlo. E... Se probabilmente non si è sganciato bene, comunque... Devo caricarlo sul furgone. Quindi il furgone credo sia... Questo qua. Non è il massimo come controllo della velocità e dell'accelerazione, come succederà su un transpalette. Non si riesce a essere precisi, purtroppo. Quindi adesso abbassa. Ok, scaricato. Vado a caricare l'altro grande. Fatemi vedere, spero, una cosa. Si può scendere col motore acceso, comunque. Vediamo se possiamo aprire qui questo. No, non so dove devo caricare, effettivamente. Perché credo sia quel pick-up lì. Però non ne sono proprio convintissimo. Dice, esporta la prima produzione, vuoi farlo mettere il pallet pieno di materie prime elaborate nel bagagliaio del furgone, usando il carrello elevatore. Non c'è nessun furgone qui, non c'è nessun furgone là, quindi presumibilmente dovrebbe essere quello. Adesso carichiamo quel pallet là, lo carichiamo qui. E poi lì vedo dei serbatoi, quindi diventerà sicuramente interessante. Ovviamente questo essendo un playtest non sarà completo di tutto, ma sicuramente è un gioco da tenere d'occhio. Soprattutto se non nego, sarebbe magari carino in copra, ma sono sempre giochi che comunque vi danno quelle 10, quelle 20, quelle 30 ore. Ma in copra potrebbero farlo durare purtroppo ancora meno. Perché non me lo... ma porra, caccia la miseria. Scusami, ma blocca sulle forche, ok. Adesso è bloccato. Sì, va sistemato. Decisamente è sistemato il... il muletto. Ok, sì, ma l'ha già caricato. 24. Scusate, ma se io adesso andassi a caricarli a mano... Ah, no, se ne va. Proprio così. Ah, ok. Compila il tuo primo contratto. Vabbè, me ne ha fatti meno, non 29, ma va bene, dai. Compiliamo il contratto. Abbiamo anche... Ah, il... Perché il butano? Ah, il turbo, ok. Contratto. Eh, l'ho fatto, ma... Aggiornamenti, no? Contratto. Contratto accettato. Eh, l'ho fatto, ma non è... Non è finito. Eh, no, infatti ce ne sono altre ancora. Infatti 24, me ne mancano altre. Quindi afferra... E lo metto qui. Ma no, non lanciarlo. Non c'è bisogno. Mettilo qui. G. No. Eh, no, lo metto qua. Allora. Va bene. Me ne mancano 4. Quindi... 5, 5, 5. Quindi lì non ce ne sono più. Eh, tecnicamente... Tecnicamente devo ordinarne ancora. Eh sì. No, ce n'è uno qui. Eh, me ne manca uno. Mannaggia me. Voglio vedere se si è incastrato qualcosa, magari... Niente, me ne manca uno. Quindi devo andare a comprarne uno. Che spreco. È scomoda sta cosa che... 1, 2, 3, 4. Eh sì, me ne manca proprio uno. Niente. Facciamone... Facciamo l'ordine di uno. Consegna 1. Perché poi abbiamo il malto, frantumato, già pronto, che è quello che stiamo producendo. Lievito industriale. E va bene. Vediamo intanto che arriva. Vorrei andare a scaricarmelo senza il transparallel, senza niente. Risolvi la posizione dell'oggetto rotazione. Vediamo un po'. Sì, ho sentito. Ma se possibile io eviterei... Non si può saltare. Eviterei... Posso prendere... Eh no, devo rimuovere il pallet. C'è poco da fare. Guida il veicolo. Di qua. Spingi avanti. Perfetto. Poi... Poi... Sollevo. Va bene. Prendo questo. Torno lì. Q sollevo. Esco. Mmm... Che fastidio. Devo sollevarlo di più. Ok. Dai, fammi scendere così, va. Va bravo. Ok. Grazie. Quindi, prendo questo. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Lo metto qui. Va bene così, dai. Ah, devo, sì, giustamente. Ne ho comprato uno. Devo andare a raffinarlo. Che pirla, è vero. È stato bello l'inizio perché comunque ho dovuto collegare la... Ma che palle! Ho dovuto collegare l'elettricità, mandare via chi ci viveva dentro abusivamente. Quindi è stato molto carino. Sarà da vedere se poi magari, cosa che io gradisco sempre molto, se poi arriveranno le bollette, insomma i consumi. Perché potrebbe essere carino nell'ottica di un, magari, un guadagno maggiore risparmiando un po' su alcune cose. E niente, adesso ci sta mettendo un po' ad arrivare il sacco. Dovrei andare a velocizzare la cosa. Si può correre solo quando beviamo il caffè e spendiamo un dollaro alla macchinetta del caffè. Eccolo che arriva. Qua c'è una porta, che non so dove va. Però intanto... Eccolo qua. Oh! Pericolosa sta cosa, eh. Il fatto che comunque correndoci addosso si va a... A spingere via le cose. Molto pericoloso. Eccolo lì. Ok. No. Ma che palle! Mamma mia, che nervoso! Sì, a me piace sta cosa del muletto, però... Sì, a un certo punto poi inizia... Scusa, bloccalo. Solleva. Blocca. Blo... Mmm... Dai, dimmi che ti incastri, dai. Dai, dai, che me lo prendi buono lo stesso. Dai, dai, fai il bravo. Ok. Giù. Io... Ok. Boh, mamma mia. Ecco queste cose che mi fanno veramente innervosire. No, no, ma a me piacciono il fatto di... Di dover mettermi lì e caricare. Però ci sono giochi in cui questo è più semplice. Non succedono queste cose. Qui si rischia veramente di fare la fine di Gold Hunter. Veramente tanto. Ok. Ok. Blocca. Sì, poi probabilmente è solo questioni di pratica, eh. Però... Vai. Ok, caricato. Spegni. Ok, dovremmo tecnicamente avere completato il contratto. Quindi. Contratto. Conferma. Dobbiamo imparare sotto 140 dollari. 34 punti di reputazione. Il contratto successivo tra qualche secondo. Trova la bombola del gas. Perché? Perché si continua. Eccola qui. Vediamo cosa ci fa fare. Veramente... A parte questo problema qui. Mi ha veramente incuriosito perché sono tante cose. Ti domandi sempre che chissà che cosa mi farà fare. In questo caso no. Non ci fa fare niente. Nel senso che dovrò caricare... Ariane ma veicolo. Eccolo lì. Allora. Non so cosa fare io con la bombola. Ma... Cioè... Ma scusate. Mi... Mi... Mi fai fare il pieno... Guido a veicolo? No. Beh. Ah qua dietro. Ok. 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 Non lo vedevo. Ma qui c'è stato uno spazio per il pallet. Vai alla cassetta degli attrezzi. Apri il menu costruzione. Ok. Allora. Recopaggio a cassetta degli attrezzi. Ah. Qui c'è uno spazio per il pallet. Ok. Dobbiamo acquistare uno spazio per il pallet prima. Quindi andiamo al computer. Credo. Sì. Aggiornamenti. Specchio verticale. Sala macchine. Guardate quanta roba c'è. Billeria. Billeria S3. Imbottigliamento. Machina industriale. Vedete? E solo che non ho idea di che cosa voglio farmi fare. Spazio per il pallet. Ok. Questo l'ho già comprato. Sì. Sala macchina l'ho già comprato. Acquista un spazio per il pallet. Beh. Non mi indica questo posto qui. Quindi probabilmente. Lo sposto. Oh. Sì. Intanto l'ho fatto il pieno. Acquista un spazio per il pallet. La cassetta delle attrezze. Ah. Ok. Ok. No. Capito. Capito. Adesso mi è venuto in mente. Praticamente. Utilizzando questo. Apre il menu di costruzione. E lo compro. Vedete? Trasportatore. Posto per pallet. Macchina di caffè. Ok. Acquisto un posto per pallet. Ok. Lo posiziono. E lo posso mettere però solo dentro. In casa. Non solo. Lo metto qui. Passa a modalità di amministrazione. Tasto per l'infinito tab. Con le gallarie di lavoro. Ancora arancione. Con il nuovo slot. Questo per esempio aiuterà a determinare il luogo in cui il personale prenderà le risorse di cui ha bisogno. Ok. Vedete? C'è il computer. Nasto trasportatore. Servatorio della via. E così via. Ok. E mi dice. Posto per macchinari. Non modificabile. Collega l'area di lavoro. Ancora arancione. Con il nuovo slot. Modalità di gestione. Eccolo lì. Frantoi per cereali. Praticamente. Mi dice. Frantoi per uscita. Ok. 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 E qua c'è un'altra zona. Nuovo link. Quella l'area di lavoro è ancora arancione. E' l'area di lavoro è ancora arancione. Che non so quale sia. Perché. Non ho idea di dove sia quest'area. E questa è tutta la zona degli spogliatori. Praticamente mi fa collegare qua. Conferma. Ok. Assumi il nuovo dipendente usando il computer. Quindi praticamente. Ok. Per i laboratori. Perfetto. Quindi io adesso vado al computer. E assumiamo il lavoratore. Ma. Pensavo me lo facesse fare molto più avanti questo. E' da tenere d'occhio. E' senza dubbio questo gioco. Per quanto i problemini ci sono. E' assolutamente da tenere d'occhio. Potrebbe essere superiore a tanti altri giochi. Ok. Già assunto. Questo signore qui. Che non so se si vede. Ma se si vede tanta roba. Interagisci con il dipendente. Quindi probabilmente si vede. Però se è buggato. Ah no. E' qua. Gestisci il lavoratore. Aumenta il livello del tuo dipendente. Per aspettare che acquisisci l'esperienza. Da solo acquistare un corso. Ok. Miglioramento. Ok. Il segno indipendente all'ingresso del frantorio per cereali. Lavora. Assegna postazioni di lavoro. Qui. Qui. Vai qui. No. Non me lo fa qua. Non so quale sia la postazione del lavoro. Ma immagino che sia qui. All'ingresso del frantorio. Ok. Confermo. Ok. Esporta 50 sacchi di malto schiacciato. Quindi praticamente lui prende i sacchi che arrivano. E li mette dentro. Non so se farà anche. Farà l'uscita anche lui. Cioè no. Forse ce n'è un altro. Quindi lui è qui adesso. E mi dà una mano. Ok. Devo ancora chiarirmi un po'. Impaziente il vostro parere qua sotto nei commenti. Alla prossima. Ciao ciao.